La notte di San Silvestro Federica Panicucci ha condotto su Mediaset il programma Capodanno e Musica e il giorno successivo molti giornali e siti hanno riportato quegli attimi di imbarazzo dopo lesibizione del rapper Junior Kelly. . Molto conosciuto tra i giovani, l'artista laziale è famoso perché ai suoi concerti si presenta sempre con una maschera senza mostrare mai il volto e durante la serata. Di Capodanno a Bari trasmessa su Canale 5 ha fatto innervosire la conduttrice per il linguaggio decisamente scurrile con cui si è rivolto al pubblico. . Abbasso la droga, viva la F.A. per sempre. Su le mani C.O., Bari, ha urlato il rapper dal palco, che ha voluto mandare un messaggio per condannare l'uso delle sostanze stupefacenti ma ha usato parole troppo colorite. . E infatti Federica, appena avuta l'occasione, ha subito ammonito il rapper e chiesto scusa a telespettatori e presenti, le sue scuse al pubblico, chiedo scusa per le parole che sono state utilizzate. . Evidentemente non sono in tono con la nostra serata, quindi ci scusiamo con il pubblico a casa e presente in piazza. .